Oh cavolo, oh no Oh cavolo L'ho guardato in faccia Devo costruirne un pillar Benvenuti amici In Minecraft Che iniziano abbastanza bene Oh cavolo Ok Non si è tanto arrabbiata Direi Ci allontaniamo piano piano Mentre giocavo il vanilla normale Ho trovato un'altra cella verso Verso di là in teoria Quindi dalla parte dove è il bastiano Direi di allontanarci tanto Allora Speriamo di sopravvivere Ho anche la porta del gancho Ho trovato Un secchio d'acqua però Se lo vedo Scendere Oh mio dio L'ho visto con la coda dell'occhio Dobbiamo allontanarci Tanto tanto Provo con la porta del gancho Tipo Mando un po' stare là Provo Su una superficie alta 2 Tipo là Ne vedo molte Cavolo Sono costretto a mandarla per terra Per forza Allora tipo Alla Ma giusto Ok Vediamo cosa riusciamo a fare E' finita E' finita Non è finita? Dove è lo 096? Non è che ci fa l'agguato Sei andato? Vogliamo ad andare Zitti 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 Andiamo Lo zoom ancora di più così Andiamo via 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 Dov'è? Era là Scappiamo la cella In teoria è quella Ok Non l'ho ancora esplorata all'interno Andiamo veloci Andiamo veloci Ho una paura tremenda Che quelle robo Mi stia seguendo Questo pentirino Non può salire Almeno che non Cos'è questo rumore? Oddio 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 Un altro famosissimo E' questo 173 Famosissimo Eh infatti Qua cosa c'è? Non c'è niente Non c'è niente Lì nei cassetti Goloso Non c'è niente Questo SCP come state notando ora E' un po' pagato perché dovrebbe funzionare che mi giro e si muove Esatto Che si muove E cerca di ammazzarti Quando sei girato Non lo devi vedere Che si muove Mi giro Si può colpire solo col piccone Dobbiamo entrare dentro Non credo che sia one shot Nel dubbio Mettiamoci un portale qua Oddio Devo sbligare Non c'è niente Come avevamo visto E' un po' bugato Eh eh Mori Te Ti Te Ho paura di avvicinarmi Magari non c'è tanto adesso Dobbiamo Ma la pistola a quanto pare Mi sono distratti La pistola a quanto pare Non gli è fu niente Oh Oh Quindi anche Visto Visto col limite perché è adatto a tutti i campi visivi Appunto aspettate Così Non è bene in realtà Qui Qui Ma se mi avvicino mi ammazza automaticamente Ok non mi ammazza Ok Mi seguo Ho paura di entrare però Magari Entri in one shot Che non c'è niente Questo non so cosa sia Bellissimo e meraviglioso SCP Questo Sto ne calmo Entro e vado Tutti Ti dico Oh cavolo C'è lo 096 in giro Che mira di schifo Che c'hai schede Vai Vai Vabbè Ok vi informo com'è andata e quando torno Ok amici son tornato Mi sto rifacendo gli inventari Vedrei di uscire Così Posso rifarmelo tutto da capo Pistola E questo qua Amici e amiche Direi che l'episodio potrebbe essere abbastanza finito Ah è vero Noi dobbiamo liberare gli SCP E questo qua non so come fare E allora che facciamo Possiamo fargli Un buco Qua Erano più potenti I cassetti delle mura Il terri è libero Ok L'abbiamo liberato Ora Questo qua ci seguirà fino a quando Corriamo Corriamo via Non è così veloce Tieniamo un po' di distanza comunque Non è che sia così lontano Ok amici il pericolo è finito Possiamo tornare a casa Ok Amici andiamo a casa Oh cavolo Oh no Scappiamo il prima possibile Più lontano possibile da qua No Non è possibile Via 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 Ci stai seguendo C'è più di uno in giro Ora No Non dobbiamo farci prendere Qualunque Sta correndo verso di noi Sta correndo verso di noi Oddio Magari l'acqua lo rallenta Ok Ok Non sta arrivando Cosa molto Buona E lì sopra Ok Buona Così andiamo via Dove è andato Ok è ancora lì Perfetto amici Direi che Ci possiamo fermare così Ho un po' di paura Che qualcosa potrebbe venire di qui E lo farà Prima o poi ci ammazzerà Però detto questo Io direi che È l'ora Di salutarci Questo video è durato Un po' poco Perché L'SCP Non era Il migliore Però comunque Ci siamo morti Volontariamente Abbastanza volontariamente Però dai Adesso Scappiamo Oh no È qui È qui Puzza Si è buttato Si è buttato No 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 Oddio Santo No No Non mi va più indietro E niente Amici Io vi saluto Ci vediamo in un prossimo video Lasciate like e iscrivetevi Ciao ciao